Avviso del comune di Caltanissetta pubblicato all'albo pretorio per il conferimento di 12 incarichi professionali per la realizzazione del piano di intervento del distretto socio-sanitario 8 per l'attuazione del SIA. Parla l'assessore comunale alle politiche sociali Carlo Campione. In generale è un PON, un finanziamento di 2 milioni e 100 mila euro circa con una convenzione stipulata con il Ministero del Lavoro. Chiaramente abbiamo fatto la richiesta come distretto, quindi facciamo parte Caltanissetta capofile e altri sei comuni limitrofi. E chiaramente si chiede, oltre che all'attivazione di quella che è l'implementazione del lavoro svolto dalla SIA, anche il REI, che parte a gennaio, che è una grossa conquista per quelle fette di famiglie in difficoltà. Ed è una richiesta necessaria. Io ho visto le domande, che sono un bel po', ci sono più di mille le domande, e noi abbiamo bisogno di organizzare bene gli uffici. Anche perché ci sono delle scadenze, quindi per esempio il 15 gennaio ci sono le prime scadenze, poi scade ogni mese. Però deve essere fatta bene la domanda, perché se non è fatta bene deve essere poi riproposta. Il tema delle politiche sociali è sempre in primo piano a Caltanissetta? Sì, ormai in tutta l'Italia in primo piano. Ecco perché il taglio che il legislatore ha voluto dare nelle politiche sociali è diverso. Quindi bisogna reinventarsi il lavoro delle politiche sociali. Cercare di valorizzare non l'assistito, cioè l'assistito, non come assistito in quanto fruitore di assistenza, ma come elemento positivo che garantisca un quid in più alla comunità. Cosa faranno precisamente? Dovranno garantire l'intervento individualizzato per ogni singolo utente, per ogni singolo disabile. L'intervento individualizzato, il piano individualizzato ancora non è partito. Dovrà partire con la cooperazione dei servizi sociali insieme all'ASP. Tutto un lavoro da costruire. Noi siamo pronti, abbiamo già infatti bandito questo avviso di aver stato bandito, e quindi abbiamo richiesto 12 figure professionali, di cui 7 assistenti sociali, poi 2 saranno psicologi e 2 educatori professionali. Quando entreranno in servizio? Il bando è stato... l'avviso è stato pubblicato la settimana scorsa, dopo 15 giorni, chiaramente si valuteranno tutte le domande che arriveranno. Ricordiamo che si tratta di una selezione. Sì, è una selezione, ci sarà una commissione esterna di 200 universitari che valuterà i titoli. Recentemente è stata approvata anche la graduatoria per il bonus idrico. Massiccio il numero di domande? Massiccio, certamente, molto meglio dell'anno scorso. Però, ripeto, la difficoltà del Nisseno oggi, ma è un problema che riguarda la Sicilia in particolare, ma l'Italia tutta, è quello di avere garantito un futuro. Un futuro che ad oggi lo vediamo proprio nero. Grazie a tutti.